Con l'apertura della piscina intercomunale di Soveria Mannelli un grosso risultato è stato raggiunto. Finalmente abbiamo restituito alla città un servizio importante, un servizio per lo sport. Nel programma amministrativo c'è scritto Soveria città dello sport. In effetti un nuovo tassello abbiamo aggiunto a questa cosa con l'apertura anche della pallavolo che abbiamo completato con l'aiuto dell'istituto di istruzione Luigi Costanzo di decollatura e adesso con la piscina intercomunale abbiamo certamente raggiunto quello che da tempo abbiamo sognato. Cioè una città dedita allo sport, soprattutto dedicato ai giovani, perché solo attraverso lo sport siamo convinti che si riesce a maturare il fisico, a maturare la mente e ad allontanare i giovani dalle attività non propriamente legite. Questo è il fine, questo è il senso di Soveria città dello sport. Avvicinare i giovani allo sport significa allontanarli da altre cose e questo vogliamo. Vogliamo che i nostri giovani crescano in salute, forti e soprattutto forti nello spirito e nella mente. Il senso di questa piscina che per adesso è scoperta ma che un domani cercheremo di farla diventare una piscina coperta e partita tutto l'anno è per noi un grosso obiettivo e siamo sicuri che nel limite della legislatura riusciremo a raggiungere questo scopo. Grazie. Grazie.